Uno schiocco di dita e all'improvviso nel mondo rimangono solo 100 persone. 100 persone che però, in proporzione, hanno le stesse caratteristiche medie di quelle che vivono ora sul pianeta. Dove starebbero nel mondo? In che numero sarebbero gli anziani o i musulmani o le persone che parlano cinese? E fermi tutti! Sapete che una sola persona avrebbe circa il 50% di tutta la ricchezza? Ciao, io sono Alessandro Beloli e oggi su Geopop scopriamo come sarebbe l'umanità se fossimo solo in 100. Per cominciare, se improvvisamente ci riducessimo a 100 persone e facendo qualche approssimazione statistica, dove vivremmo? In Europa saremmo solo 9. Dall'altra parte dell'Atlantico, in Nord America, 8. In Sud America ci sarebbero ancora meno persone, 6. In Africa invece aumentiamo un po', troveremmo 17 esseri umani. In Oceania vivrebbe a stento una persona e, se avete capito il trend, in Asia invece ci sarebbe il pienone, 59 abitanti. Di questi, peraltro, 18 starebbero in Cina e altri 18 in India. Sostanzialmente sono i due stati che soffrirebbero meno la solitudine. Se scendiamo nel particolare, delle 100 persone, 56 vivrebbero in città e 44 in campagna. Pensate che nel corso della storia umana, le persone che vivono in campagna sono sempre state la maggioranza fino al 2008. Poi nel 2008 si è verificato il pareggio con quelle della città. E da allora la tendenza è proseguita e si stima che nel 2050 il 68% della popolazione mondiale vivrà appunto in città. Piccolo appunto, c'è da dire che stiamo parlando del dato complessivo globale. In alcuni continenti questa stessa quota è già stata superata, ad esempio in Europa e in Nord America. Tornando al gioco e al dato di 56 persone che vivono in città, un valore preoccupante è che, di queste, 17 non vivono in una casa o in un appartamento normale, ma purtroppo all'interno di una baraccopoli, dette anche favelas, bidonville o slums. Parlando di cifre reali, su circa 7,9 miliardi di persone che siamo attualmente, quasi un miliardo e mezzo, purtroppo vive in una condizione abitativa molto precaria, spesso senza servizi essenziali come l'acqua potabile e l'elettricità. Peraltro, spiace dirlo, ma questo dato è in aumento. Passiamo ora a sesso ed età. Se per quanto riguarda il primo abbiamo una sostanziale parità tra uomini e donne, 50 e 50, anche se l'approssimazione ci nasconde che gli uomini sono leggermente di più, a livello di età ci distribuiremmo in questo modo. Avremo 9 bambini sotto i 5 anni, 17 giovanissimi tra 5 e 14 anni, 15 ragazzi tra 15 e 24 anni, 50 persone adulte tra 25 e 64 anni e 9 over 65 anni. Se siete proprio curiosi di saperlo, l'età mediana mondiale è in crescita, cioè stiamo leggermente invecchiando nel corso del tempo, ed è stimata intorno ai 31 anni circa. Insomma, qui in redazioni di Geopop io e Andrea siamo già oltre. Adesso, prima di vedere le statistiche relative a religioni e lingue, passiamo al piatto forte e in parte sconvolgente, la distribuzione della ricchezza, che io lo so che la stavate aspettando. Ebbene, se fossimo 100, una sola persona avrebbe un patrimonio netto superiore a un milione di dollari, 8 persone starebbero tra un milione di dollari e 100 mila dollari, 21 persone avrebbero tra 100 mila e 10 mila dollari, e se avete fatto bene i conti, 70 persone possiederebbero un patrimonio inferiore ai 10 mila dollari. Già così, lo squilibrio nella distribuzione della ricchezza è impressionante, ma se facciamo un piccolo esercizio di proporzioni ve ne renderete conto ulteriormente. Dunque, ipotizziamo che ciascuna delle 100 persone abbia il reddito minimo della fascia patrimoniale a cui appartiene. Quindi, l'unica persona con più di un milione di dollari avrà proprio un milione di dollari, poi ci saranno 8 persone con 100 mila dollari, 21 con 10 mila dollari e 70 con mille dollari. Facciamo delle semplici moltiplicazioni e vediamo quanto possiede ciascun gruppo. Abbiamo il solito, unico riccone che possiede il milione. Un blocco da 800 mila dollari, un altro da 210 mila dollari e un ultimo blocco da 70 mila dollari. Sommata la ricchezza degli esseri umani sarebbe 2 milioni e 80 mila dollari. Avete già capito dove voglio andare a parare? Facendo le dovute proporzioni, il dato che emerge è assurdo. Mr. or Miss One Million possiede il 48% della ricchezza dell'intera umanità. Il 48%. E se aggiungiamo il blocco delle 8 persone che seguono, risulta che il 9% della popolazione mondiale detiene l'86,5% della ricchezza. Di contro, ed è una prospettiva altrettanto impressionante, il 70% dell'umanità esistente possiede solo il 3,3% della ricchezza. Ora veniamo alle ultime due statistiche che prenderemo in considerazione oggi. Religione e lingua. Per quanto riguarda le religioni, se fossimo 131 persone sarebbero cristiane, 23 musulmane, 15 induiste, 7 buddiste, 7 si suddividerebbero tra le tantissime altre religioni esistenti al mondo, e infine ci sarebbero 17 persone non allineate, quindi ate, agnostiche o areligiose. Ora, come vedete, abbiamo parlato di macrogruppi. Come ben sapete, ognuno di essi al suo interno è poi diviso in tantissime confessioni diverse. Prendiamo il cristianesimo. Si potrebbe già fare una semplice distinzione tra cattolici, protestanti e ortodossi, ma la lista in realtà sarebbe lunghissima, senza contare che il grado di religiosità di ciascuna persona è incredibilmente soggettivo, per cui ecco sono statistiche di massima. Infine consideriamo le lingue, e in questo caso i dati si riferiscono alla capacità di comprendere e parlare una lingua abbastanza bene da poter riuscire a comunicare. Quindi si uniscono le lingue madri, cioè le lingue di nascita, e le lingue apprese magari a scuola o per conto proprio. Al primo posto abbiamo il cinese, con 15 persone su 100 che lo parlano. Sostanzialmente, a pari merito, abbiamo l'altra lingua che molti di voi, lo so, avranno immaginato fosse prima, cioè l'inglese. E qui mi chiederete, e perché il cinese primo e l'inglese secondo? Semplicemente perché ragionando in termini percentuali abbiamo dopo la virgola dei dati maggiori per le persone che parlano cinese rispetto a quelle che parlano l'inglese. Al terzo e al quarto posto poi ci sono otto persone che parlano indie e sette persone che parlano lo spagnolo. Infine seguono tutte le altre lingue che possiamo accorpare in un gruppone numeroso composto da 55 persone. Perfetto, abbiamo finito di suddividere la popolazione mondiale immaginando che esistano solo 100 persone. A questo punto facciamo un gioco curioso. Se dovessimo identificare l'essere umano statisticamente più rappresentativo del pianeta, chi sarebbe? Beh, è molto semplice. Basta attribuirgli le caratteristiche maggioritarie di ciascun aspetto che abbiamo valutato nel corso di questo video. E signore e signori, eccolo qua. Sarebbe un uomo cinese di circa 31 anni che abita in Cina e in particolare in città. Quindi diciamo pure Shanghai che è la metropoli più popolosa del paese del dragone. Parlerebbe cinese ovviamente, ma probabilmente masticherebbe anche un po' l'inglese. Seguirebbe un po' sorpresa la religione cristiana e infine avrebbe un patrimonio netto o modesto, inferiore ai 10.000 dollari. Ecco fatto. Se l'umanità dovesse essere rappresentata da un unico individuo medio, avremmo una prima lista di caratteristiche per individuare un buon candidato. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Sappiamo che esistono tante altre caratteristiche interessanti per una carta di identità media dell'umanità. Noi abbiamo cercato di selezionare quelle rispetto alle quali c'è più abbondanza di dati solidi. Peraltro, fateci sapere nei commenti quale dato vi ha colpito di più. Io vi ringrazio di averci seguito e ci rivediamo in un prossimo video, sempre qui su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Ciao!